180.000 euro ai dipendenti. ITASPA eroga un premio ai suoi 130 impiegati per sostenere le loro famiglie e per godere del risultato del 2022, con un fatturato di più di 90 milioni e un incremento sull'anno precedente del 39%. Dopo il caro bolletto non possiamo non accorgerci dell'evidente persistere di un momento di quotidiana tensione economica nei bilanci familiari, afferma Andrea Veri, amministratore delegato della ITASPA. Abbiamo quindi voluto sostenere i nostri dipendenti e i loro cari in un momento ancora estremamente difficile, condividendo con loro l'eccezionalità del risultato raggiunto nell'esercizio 2022, grazie alla collaborazione e al lavoro quotidiano di tutti i comparti aziendali, premiando lo spirito di appartenenza alla società con la consapevolezza che i risultati si raggiungono insieme, con la dovuta collaborazione e un preciso gioco di squadra e che di conseguenza deve essere naturale per un imprenditore saper poi condividere i risultati che ne conseguono. La quota si aggiunge al bonus energia donato ai dipendenti in pieno caro bollette lo scorso anno e integra la quota welfare che l'azienda eroga attraverso la piattaforma Tre Cuori. La chiusura 2023 si preannuncia decisamente diversa da quella dell'anno precedente, riprende Beri per differenti sfaccettature che vedono molti mercati in una situazione di difficoltà, ma ciò nonostante auspichiamo di poter replicare nelle dovute proporzioni questa nostra iniziativa, quale forma di ringraziamento collettivo verso chi quotidianamente ci accompagna nella crescita della nostra azienda. Grazie a tutti.